La colpa non è del ghiaccio. Se negli ultimi giorni gli autobus sono finiti contro il guardrail o contro un muro a pietra abbondante e macchia godena, la colpa è solo della carenza di manutenzione sulle strade provinciali. A dirlo è Tiziano Di Clemente, che torna sulla vertenza dei cantonieri lasciati a casa dalla provincia di Sernia alla vigilia dell'ennesimo tavolo istituzionale che potrebbe portare alla stabilizzazione dei 33 operai. È evidente, è il parere del coordinatore del Partito Comunista dei Lavoratori, che certi incidenti dipendono dalla scarsa manutenzione delle strade provinciali, peraltro a fronte di eventi neanche eccezionali. Se vi fosse stato un piano serio con personale qualificato, come quello degli ex operai cantonieri in vertenza, si sarebbe usciti la notte precedente con i mezzi e con il sale, evitando i rischi del gelo già previsti. Nel frattempo una frana sta creando disagi sulla provinciale tra Rocca Sicura e Forli del Sannio. Mentre le erbacce non tagliate, l'estate scorsa hanno creato problemi agli automobilisti, ostruendo la visuale. La scelta di privatizzare il servizio, dice ancora Di Clemente, finora ha portato risultati discutibili. Per il coordinatore del PCL c'è stato solo uno spreco di risorse pubbliche pagate con le tasse dei lavoratori, a fronte di strade che rimangono pericolose. Oggi il piano di manutenzione provinciale a suo avviso fa acqua, proprio per via dell'assenza di operai qualificati. Un vuoto che per i sostenitori dell'avvertenza dei cantonieri può essere colmato solo stabilizzando i 33 cantonieri part-time, il minimo indispensabile per curare gli oltre 800 chilometri di strade provinciali. Dare risposte a questi operai non significa solo dare un lavoro, conclude Di Clemente, ma anche lottare per il bene comune della sicurezza stradale.